Istituito un organismo di gestione della crisi da sovraindebitamento, rivolto a tutte le persone e alle entità che non sono fallibili e quindi non assoggettabili al fallimento e che in qualche maniera vogliono definire la propria posizione debitore verso terzi. Lo ha detto Antonio Tuccillo, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli Nord, in occasione del forum sulla professionalità e la sussidiarietà nella gestione della crisi da indebitamento che si è svolto ad Aversa. I dati sono allarmanti, il 7% delle famiglie italiane è fortemente indebitato ed è anche sotto usura. L'Ordine ha istituito un organismo di gestione della crisi da sovraindebitamento che è rivolto praticamente a quelle persone che non sono fallibili, a tutte le entità che non sono soggettabili al fallimento e che in qualche maniera vogliono definire la propria posizione debitoria verso terzi. È opportuno che i dottori commercialisti l'approfondiscano perché può essere rivoluzionaria per il nostro territorio e il nostro paese in genere. Oggi esistono una serie anche di persone fisiche che sono gravate da debiti e che possono rivolgersi a noi direttamente, all'Ordine direttamente, non solo tramite il Tribunale, per chiedere la risoluzione di questa loro problematica e la chiusura di questi loro debiti. Ovviamente proponendo a fronte un pagamento che sia un pagamento certamente parziale e eventualmente anche rateale. Il 7% delle famiglie italiane è fortemente indebitata ed è anche sotto usura e questo potrebbe essere uno strumento che potrebbe riportare in bonus e far rivivere di nuovo serenamente le persone. Il ruolo del dottore commercialista in questa fase è quello non solo di aiutare queste persone a ritornare a vivere nella normalità, ma principalmente il ruolo del professionista, in questo caso il dottore commercialista, è importante perché è quella della diffusione di questo strumento che diventerà nei prossimi anni uno degli strumenti che riporterà di nuovo, speriamo noi, la serenità nelle famiglie italiane. Questa è una legge che comunque agevola questa sistemazione, agevola questa ristrutturazione, se così possiamo dire, del debito personale o meglio ancora dei soggetti che non sono fallibili. è una norma che era necessaria, una norma che doveva essere varata, una norma che comunque noi dobbiamo applicare, che comunque vogliamo applicare proprio per evitare che ci siano delle situazioni molto imbarazzanti, che ci siano delle situazioni di crisi personali, familiari che poi portano alle estreme conseguenze. Noi professionisti ci candidiamo all'applicazione di questa norma, ci candidiamo come sempre per la nostra professionalità ad applicarla, ad applicarla in modo eco. Come dottori commercialisti abbiamo una grande responsabilità ma anche una grande opportunità di lavoro perché attraverso questa normativa il legislatore investe i dottori commercialisti e gli esperti contabili della responsabilità di affrontare le casistiche che riguardano le insolvenze dei privati e di affidare appunto a professionisti qualificati la redazione di un piano che abbia come finalità quello di sostanzialmente di risolvere le insolvenze del cittadino. Noi siamo l'immediata istituzione, siamo stati tra i primi ordini in Italia a istituire l'organismo di composizione della crisi. Naturalmente siamo in prima linea sia appunto per i cittadini per assisterli in una materia così delicata ma soprattutto per nuove opportunità professionali per i nostri colleghi verso le quali siamo sempre molto attenti. Con me c'è l'estima con le note.